Top Metro fa bene un'opportunità per creare valore economico e sociale. È una call che guarda le comunità alla loro capacità di essere inclusive, trasformative e alla loro capacità generativa. È una call che aiuta i territori a far emergere le proprie competenze, i propri saperi, li valorizza, insegna a costruire soluzioni concrete che possano rispondere ai bisogni che la società oggi ci pone davanti. È un percorso di capacity building che a mio avviso è davvero utile per riuscire a capire come funzionano i modelli di economia sociale e riuscire a far sì che i nostri territori, seguendo questo tipo di modelli, diventano sempre più inclusivi. È un'occasione, un'opportunità utile per tutti, per le pubbliche amministrazioni, per il terzo settore, per i cittadini, per la società civile. Ed è un'opportunità per creare valore aggiunto, per creare impatto sociale, insomma, per fare bene.